buongiorno e benvenuti al mio podcast io sono leonardo durante globa di surprise 2021 top 50 andiamo alla curiosità di oggi cominciamo il podcast di oggi con un interrogativo ma gli elettroni possono davvero girare su se stessi la maggior parte di noi la rappresentazione degli atomi come minuscoli sistemi solari servono come introduzione al mondo della fisica delle particelle sfortunatamente queste immagini iconiche sono più sbagliate che giuste tanto per cominciare gli elettroni non sono come minuscoli pianeti che orbitano attorno a un sole incandescente probabilmente non sono nemmeno minuscole sfere ma piuttosto puntini nello spazio senza larghezza altezza o profondità e come tale un oggetto senza larghezza non ha nulla che possa ovviamente ruotare allora a cosa si riferiscono i fisici quando descrivono lo spin di una particella beh agli albori della meccanica quantistica un certo numero di fisici riflettevano sull'idea se le particelle come gli elettroni effettivamente girassero su se stesse anche se l'idea non si adattava perfettamente alle teorie esistenti sul comportamento degli elettroni c'erano una manciata di osservazioni negli esperimenti e piccole lacune nella teoria che dicevano il contrario uno è il fatto che il percorso di un elettrone curva quando incontra un campo magnetico come se fosse esso stesso un piccolo magnete beh questo di per sé non è una cosa scioccante dopo tutto le cariche in movimento creano campi magnetici ma quando due scienziati tedeschi di nome otto stern e walter gerlach misurarono questo campo negli elettroni in orbita attorno al nucleo negli atomi d'argento all'inizio degli anni venti scoprirono che i numeri non quadravano perché ciò avesse senso anche gli elettroni dovevano muoversi sul posto cioè dovevano ruotare stranamente i risultati implicavano che tale rotazione creasse piccoli campi magnetici con orientamenti molto specifici rigorosamente puntati verso l'alto o verso il basso rispetto a un campo magnetico esterno non sono mai stati inclinati casualmente in un modo o nell'altro nel frattempo un teorico di nome Wolfgang Pauli stava lavorando a un principio che aiutava a spiegare perché alcune particelle come gli elettroni e le particelle nel nucleo dell'atomo non potevano stare una sopra l'altra occupando lo stesso spazio mentre altre come per esempio i fotoni potevano il suo principio famosissimo principio di esclusione del paolo richiedeva un insieme di quattro numeri quantici uno descriveva l'energia di una particella altri due avevano a che fare con il movimento angolare ma il quarto non sembrava riguardare nulla di ovvio nel frattempo un giovane scienziato americano di origine olandese di nome samuel goodsmith avrebbe presto fornito la risposta applicando nuove interpretazioni delle formule sulle linee spettrali nei campi magnetici chiamati doppietti aveva inconsapevolmente scoperto prove di un movimento negli elettroni che appariva stranamente simile appunto allo spin non che l'avesse capito subito ci sono volute molte lunghe conversazioni con un altro giovane fisico olandese americano di nome george ullebeck per renderlo chiaro sebbene non siano stati i primi a prendere in considerazione il concetto la conversazione insieme ai risultati di tali teorie ed esperimenti ha generato un caso chiaro a favore della rotazione degli elettroni tra le altre particelle fondamentali ma nulla può essere così semplice nella meccanica quantistica anche se il termine spin veniva usato per descrivere lo strano magnetismo degli elettroni e strane proprietà della luce c'erano però problemi se dovessimo supporre che gli elettroni fossero vere e proprie sfere minuscole la velocità alla quale dovrebbero ruotare per corrispondere ai risultati sperimentali significherebbe che la loro superficie dovrebbe ruotare circa 10 volte più velocemente della velocità della luce ciò ovviamente è impossibile naturalmente oggi si pensa che gli elettroni non abbiano una superficie tuttavia sapere che le particelle fondamentali sono punti in un campo non lo rende più intuitivo in primo luogo quindi come fa un punta dimensione 0 a girare ancora più confusi sono gli esperimenti condotti da stern e gerlach che puntano sempre solo in due direzioni assolute gli orientamenti distinti ovvero totalmente verso il basso e totalmente verso l'alto del minuscolo magneto di una particella non sono facilmente spiegabili da un modello da un oggetto 3d rotante che può inclinarsi un po in questo modo un po in quell'altro modo accelerare o rallentare in altre parole il tipo di rotazione che avviene negli elettroni non ha un equivalente nel nostro mondo di palloni da basket palloni da calcio e pianeti potrebbe avere conseguenze simili facendo curvare le particelle come se avessero un momento angolare intrinseco e trasformandolo in uno strano tipo di barra magnetica ma qualunque sia la rotazione quindi ancora un mistero e però è una proprietà fondamentale proprio incastrata nel tessuto stesso del nostro universo quindi cari amici miei ci vediamo al prossimo podcast per spiegare ancora qualche meraviglia del nostro universo non dimenticate di seguirmi e divulgare